Innanzitutto ben trovati a quello che è il consiglio d'appuntamento con i consigli che anche oggi daremo per gli utenti del mare. Io sono il utente di Vascello, Amneto Piccino, capo servizio della sala operativa della capitolina di Mazzara del Vallo e oggi tratterò l'argomento della sicurezza della navigazione in generale. Innanzitutto premo sottolineare che in questo periodo dove diportisti e bagnanti affolleranno sicuramente le nostre coste è opportuno attenzionare alcuni piccoli consigli che potrebbero, anche se scontati, evitare peggiori conseguenze. Pertanto quello che consiglio io a chi è possessore di unità o imbarcazione di porto in questo periodo è sicuramente di attenzionare la sicurezza nella fase di programmazione dell'uscita in mare, ovvero già in banchina di controllare quelle che sono le dotazioni di sicurezza e quelle che sono magari le dotazioni anche di bordo tipo remi e di controllare sempre se all'inizio della partenza il carburante a bordo sia sufficiente per l'uscita in mare che si intende effettuare e per rientro. Quindi magari anche affidarsi a persone del posto che conoscono bene la zona, consigli utili anche per conoscere le correnti marine che potrebbero anche in qualche caso rendere difficoltoso il rientro in mare, oppure conoscere delle zone di secche o di scogli affioranti non segnalati in maniera tale da poter scongiurare ogni pregiudizio, come le secche che abbiamo qui a Capofeto che molto spesso sono zone dove effettiamo dei soccorsi in mare. Pertanto al di là di questo anche consiglierei di attenersi a quelle che sono le omologazioni a livello di personale a bordo e di non imbarcare mai persone oltre alla capacità di omologazione e distribuire bene il carico a bordo in maniera tale da evitare eventuali instabilità del mezzo. Purtroppo in caso di incendio, quello che mi sento magari andare più nel vivo del discorso, in caso di incendio la preocazione che consiglio di dare alle persone è di mettersi subito sotto vento, ovvero con le spalle al vento e chiamare subito la capitaneria di Porto di Mazzalva. In caso di falla di dirigersi subito verso riva in maniera tale da magari spiaggiare o comunque trovarsi in vasta fondale e di, se la falla è a portata di mano o comunque visibile, cercare di otturarla con qualsiasi mezzo. E comunque se l'affondamento è inevitabile è di far indossare subito le cinture di sicurezza a tutti il personale a bordo e sganciare qualsiasi cosa galleggiabile presente a bordo, tipo anche i cuscini oppure gli stessi parabordi. Pertanto chiamare sempre, io consiglio il numero blu 1530 per l'emergenza in mare, dove risponderà un nostro operatore e io ricordo che qui in sala operativa a Mazzalva del Vallo abbiamo personale H24 che è pronto a fronteggiare ogni tipo di emergenza, appunto, H24. Il numero utile della capitaneria locale è lo 0923 67 21 11 oppure tramite apparati radio o HF canale 16 o 13 o 67. Naturalmente quello che consiglio anche è di approntare subito le cinture di sicurezza e di salvataggio, il classico salvagente diciamo che si trova a dotazione a bordo in un posto facilmente raggiungibile e quindi non chiuso con un catenaccio o con un lucchetto magari e poi in caso di necessità è difficile prendere subito per l'utilizzo. Inoltre bisogna sempre controllare le condizioni meteomarine e in caso di ingrossamento del mare far indossare subito le dotazioni di sicurezza, quindi salvagenti, e rientrare verso il porto. Un'altra cosa che mi dimenticavo è di magari tenere conoscenti, familiari oppure anche i sodalizi nautici dove stazionano le proprie unità, di informarli sulla tratte che intendono percorrere e generalmente l'orario di rientro in maniera tale che magari possono essere subito allertati in caso di non rientro la guardia costiera. Buon vento a tutti.